Tentata rapina aggravata in concorso. Con questa accusa gli agenti della squadra mobile della questura di Brindisi in collaborazione con la questura di Varese hanno tratto in arresto i presunti responsabili della rapina a mano armata commessa nella gioielleria Gold Silver di Gallarate in provincia di Varese un anno e mezzo fa, il 29 agosto 2013. A finire in manette, dopo un'attenta analisi delle riprese video e le descrizioni fornite dalle vittime, due pregiudicati Brindisini, il 24enne Cosimo Schena ed il 42enne Rosario Galluzzo, già noto alle forze dell'ordine per il suo arresto in fragranza di reato durante la tentata rapina a mano armata del 19 ottobre 2013, due mesi dopo Gallarate, nella gioielleria della Rocca in via Verona Brindisi, di cui Telebrindisi documentò con immagini esclusive il momento del blitz della polizia con l'arresto di Galluzzo. Anche in occasione della rapina di Gallarate, i due complici, insieme ad una terza persona non ancora individuata dalle forze dell'ordine, entrarono nella gioielleria Gold Silver di Gallarate fingendosi dei normali clienti. Una volta all'interno, pistole alla mano, minacciarono i presenti per farsi consegnare i monili esposti nelle vetrine interne, immobilizzando le commesse presenti in negozio. Non contenti, minacciarono con estrema violenza anche i titolari della gioielleria, ma inaspettatamente uno di loro reagì alle minacce mettendo in fuga i due malviventi che restarono a mani vuote. Le indagini hanno poi portato alla pista Brindisina, che coinvolse direttamente gli uomini della sezione antirapina della questura del capoluogo adriatico. A dare la definitiva prova di quanto individuato, le immagini delle telecamere presenti nella gioielleria, che insieme alle descrizioni fornite dalle vittime, portarono a chiudere il cerchio su Schena e Galluzzo, già noti per reati dello stesso tipo. Oggi, infine, la notifica è due pregiudicati dell'ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Milano.